E qui al concorso nazionale di salto ad ostacoli si è dato ampio spazio anche ai più piccoli. I bambini infatti hanno passato i loro pomeriggi con diverse attività, tra queste il battesimo della sella, ovvero salire su un pony per la prima volta. Oltretutto vi è stato anche un laboratorio di disegno dove i bambini hanno potuto dipingere in maniera assolutamente colorata le loro facce. Delle baby dance e anche dell'arte dedicata ai palloncini. Oltretutto si è giocato assieme e la mascotte Disney di Topolino ha contribuito ad allietare questo evento. Bentornati al concorso nazionale di salto ad ostacoli. Sono qui in compagnia di Dario che ha appena fatto un giro sul pony. Com'è stato Dario? Bene. Ma ti piacciono questi pony? Sì. Ce l'hai un animale preferito? Sì, i pappagalli. Sì. E già ce li ho. Già ce li ho. Ti piacerebbe avere un pony tutto tuo? Sì, il nonno me lo compra. Ah sì? Bene. Com'è stato questo giro? Ti andrebbe di farneare? Sì. Bene. In questa manifestazione si è dato spazio quindi anche ai bambini che hanno potuto fare diversi giri sui pony. Si è pensato così anche ai più piccoli. Per il momento è tutto. Continuate a seguirci in streaming su www.cefalueb.com e su www.cefalutv.it www.cefalutv.it